E' un giorno di dicembre arriverà l'estate perché le cose fanno quello che gli pare seguendo i punti esatti delle coordinate sicuro ti ritrovi perso in mezzo al mare e a far contenti tutti si diventa pazzi le cose necessarie stanno in una mano se deve stare lì come un ostacolo allora è meglio non averlo un cuore e sono qui che mi sbatto da quando ero bambino prendo a pugni le mosche e disoriento il destino e un bicchiere di vino e il classico panino se te lo spiegano non capirei ma se lo senti lo sai 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 e il mondo mi ha deluso tante volte quante le volte che probabilmente l'ho deluso io nel cuore del conflitto con gli occhiali a specchio è inutile nascondermi si sta da dio e a terra le mie ali si fanno pesanti e mi sembra impossibile volare ancora e gli obiettivi sono sempre più distanti tra me che in certi momenti e sono qui che mi perdo per dare i nomi alle cose a ritrovare una strada tra mille strade confuse e un bicchiere di vino e il classico panino se te lo spiegano non capirai ma se lo senti lo sai se lo senti lo sai se lo senti lo sai il nome della rosa dove sta la tua casa una notte gloriosa di sabbia in mezzo ai denti le spalle dei giganti i momenti salienti l'attimo prima delle cose importanti e senza pentimenti senza risentimenti basta combattimenti vivere e un bicchiere di vino e il classico panino se te lo spiegano non capirei ma se lo senti lo sai 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 oh yeah mi ha fatto piacere vederti oh tu come stai non facciamo passare degli anni ora che uno va in giro l'altro lavora la scritta che schizzi sul muro di scuola è quasi sparita ma dentro di me non si è mai cancellata viva la vita mangia di tutto anche le briciole beviti il succo di tutte le favole che dice che i mosti ci sono ma è solo metà della storia i mosti si possono vincere e l'altra metà da imparare a memoria secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti ognuno programmato per una funzione ma un sasso resta immobile ovunque lo metti cosa che non succede con le persone e a terra le tue ali si fanno pesante ma troverai la forza di volare ancora e gli obiettivi sono sempre più distanti tranne che in certi momenti